perché acquistare da gucci o da altri brand di lusso quando ormai sapete benissimo che è arrivato online il nuovo merchandising di croatomist stiamo parlando della seconda edizione con una nuovissima colorazione e un nuovissimo design vi lascio il link in descrizione e vi ricordo di taggarmi su instagram non appena riceverete i prodotti così che poterò condividere tutte le vostre stories adesso è arrivato però il momento di flexare con stile link in descrizione dai dai dovevo andare martin allora se non mi stino andiamo a andiamo andiamo salti secondo me va bene a navi di mezzo e sì perché se arriviamo vinciamo la partita che siamo così god da vincere cercate di parlare solo quando necessario e io solo un'arma di marco ma non lo scudino apatene la potenetola canna trovate e ho gli splash ok arriva generi agenda io non faccio poco a matona prossima 2 kg arrivano 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 da noi arrivando e sono fortissimi sono cattivissimi da dietro da dietro mani da dietro a carino mani aiuto ma tono è molto da una sul tetto hanno messo le molotov si ma quando bellissimo morto un altro fascia è che io non ho non ho armi per aiutarti faccio un fama se vuoi ok ho tirato uno uno fuori morto un altro anche io non ci vediamo l'audio che mi sta trappando un altro lì noi credono di noi ma c'è un altro qui è senza offesa ma state parlato un po di gente che è morto qua ok ok tutti i morti ok un po di armi sicuramente gente sicura 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 non è che io abbia tutte queste armi dovremmo andare tipo ancora qua non lo so che sembra mezzano lutto però è mezzo fuori mazzo fuori mazzo morto per lì per dove sta l'amico lo spot dammi la sim sento gente ai sotto lo vedi lo vedi è sotto quando ha fatto morto 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 allora c'è lo scar o il rampino ah che bello tommy gun pulita autorità tutto tutto pulito ragazzi si non c'è più nessuno vabbè li prendiamo andiamo tutti insieme a questo punto ho due elicotteri allora un po più carino di un pack e purtroppo non c'era nulla venitevi un po di soldi c'è uno scar se volete qua io qua continuiamo ok stascia di manetta seguiamoli seguiamoli rubiamogli le kill a non funziona così ho atterrato bravissimo maravani dove dove ma come fanno i ladroncoli mamma mia sascia ma questi nuotano in acqua senza vita sono bot fatti fatti il falò così dico anche i colpi aspetta fammi scendere non mi fa scendere c'è un tattico blu se vuoi lasciare me lo parti dov'è o mi sto sparando ma c'hanno spaccato l'elicottero poi no io non lo vieniamo via ma rompio 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 non puoi romperla non poi a solo così possono vincere dal già e niente vabbè hanno hanno vinto barando ma non è vero che abbiamo vinto intanto vabbè un tanto ma poi se vinciamo vinto tutti cioè vero è un gioco di squadra ragazzi se vedi qualcuno ho l'asso nella manica questo qua non l'ho visto tranquilla tranquilla dei botti e io sono a piedi ok ok bravissima pimpi pizza e ucciso i pimpi ai pizza se c'è il pompo quando era l'unico quindi sono rimasti in 12 oltre a noi è capito ma qua squadra vincente non si cambia vi si cambiamo o la ma bro l'amano ma aspetta non sono tutti no è fatta posta mattona esperato aspetta che prendo la il suo telefono possibile ecco lei alla nostra destra che ripeto ripeto c'è io comincio ad andare 130 no ma sbagliato arma che c'è con cosa stavo sparando raga abbiamo 27 che gli spari non ne facciamo 50 record mondiale stanno qua l'ultima scuola si fa insieme ma vendeci a prendere stanno bloccando era tutto un diversivo per farmi venire a prendere guarda come va veloce lei più veloce di noi stanno a casa la bella come regalato fratello più tardi appena vinciamo capitale america a come premio dice sì ci sta quattro cosa due poveri io spero secondo me son boss dai regali trecchiamo prendete i cecchini provate dove eccoli sono posto nel posto o dove come l'avete stilato no però posso volare ma crea l'ultimo dice chi trovate cerchini non c'è proprio l'ultimo si tricca regalo io non ho nulla per triccara cliccatelo col pompe rampino può un po' ti vuoi fare ma questo si è nascosto per porta eh bro ma sta mappa eccolo l'ho visto raga no forse il marauder da me sono il marauder vediamoci a lui io sono il marauder allora se è qua muore dai marauder è qua no no mi scherzo è un marauder raga fate finta di me continui a essere un marauder a volte è il punto esclamativo a volte no ora ce l'ho boh raga io sto svolazzando qua da due ore o a niente non riesco a vedere grazie monnetto grazie al dirittina precamperato ma i botte non prendono danno la stella dai comunque è impossibile raga che non c'è ok ho un cecchino se volete fare i trick oh buono ah l'ho trovato eccolo qua allora non lo sto ammazzando diciamo che la tentazione è elevata però ma dove stai non ti vedo più sono all'esi posso fare di trick o delle 60 vai vai ma com'è una spugna o c'è porto o è peggio di una spugna ok la cavia per i trick raga in futuro aggiungiamo anche l'inquadratura del mouse si aggiungiamo 70 camere no era un hit oppure io ho fatto head non lo so ho fatto è finita io ho fatto 32 kill 32 si 32 e quindi ho fatto 5 io 15 7 io non lo so quindi noi 20 io 8 in totale quanto siamo siamo